Zini e Morbidi Group Autocarrozzeria Zini e Morbidi Sempre sulla vostra strada Zini e Morbidi Group in via Pollative 4A a Prato è davvero sempre sulla vostra strada Zini e Morbidi Group è un'autocarrozzeria e un'autofficina altamente qualificata che si avvale di personale esperto nel campo della verniciatura con prodotti ecologici e forni ad essiccazione rapida Si occupa di meccanica, elettrauto, diagnostica e impianti e inoltre effetto a tagliandi certificati delle case madri Zini e Morbidi Group Zini e Morbidi Group offre anche la sua consulenza professionale nella vendita di auto nuove e usate dando ai suoi clienti l'opportunità di vantaggiosi finanziamenti personalizzati in più offre servizi come l'assistenza legale interna e l'assistenza infortunistica stradale In caso di infortunio Zini e Morbidi Group interviene tempestivamente offrendo il soccorso stradale sul posto 24 ore su 24 e un'auto sostitutiva in caso di bisogno Grazie per la visione! Grazie per la visione!